È una persona molto intelligente, un cervello che manca, sicuramente in Italia, con una grande capacità di parola e di uso del linguaggio. Manca meno di una settimana l'avvio del processo in Ungheria di Ilaria Salis, la docente di Monza da un anno detenuta a Budapest con l'accusa di aver provocato delle ferite, ritenute di lieve entità a due partecipanti al corteone nazista dell'Honor Day dello scorso febbraio. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha incontrato l'omologo ungherese lunedì chiedendo un trattamento dignitoso per la 39enne, mentre la famiglia è stata ricevuta dal ministro della giustizia Carlo Nordio. L'obiettivo è quello di far ottenere misure alternative al carcere come gli arresti domiciliari. Intanto, martedì sera, in piazza Missoria, Milano, a poca distanza dal consolato ungherese, è stato organizzato un presidio per chiedere il rimpatrio e la liberazione di Ilaria. Richieste avanzate, anche dal comitato, liberiamo Ilaria Salis. La richiesta fondamentale è che Ilaria torni presto a casa. Ovviamente nessuno vuole sottrare Ilaria alla giustizia. L'importante è che subisca o venga portata in Italia agli arresti domiciliari togliendola da questa situazione allucinante di un carcere disumano, perché fino ad adesso Ilaria ha subito delle cose che non dovrebbe subire nessuno, nemmeno il peggior colpevole. Noi non chiediamo nulla se non di rispettare i diritti umani di Ilaria. Il comitato è nato poco prima di Natale, perché quando siamo venuti a conoscenza della situazione di Ilaria ci siamo molto attivati. A chiederne il rientro in Italia anche alcuni ex compagni di università. Ilaria, oltre ad essere una compagna di università, è stata anche una grande amica in quegli anni. L'abbiamo frequentata molto, sia all'interno di tutto quello che si fa, all'università feste, mica feste, ma anche poi all'interno di... Io sono andato anche a delle manifestazioni con lei. Io non ci ho dormito quasi tre notti, sapendo che era in quelle condizioni assurde. Ho conosciuto Ilaria in università e la trovavo anche io una persona veramente un genio, praticamente. Qual è la speranza a questo punto? È che si muovano le cose, che finalmente il governo italiano faccia dei passi giusti, come dovrebbe essere per cercare di riportarla a casa. La nostra speranza è quella ovviamente che esca il prima possibile dal carcere, che torni in Italia e che risponda a quello di cui deve rispondere, e comunque secondo quelle che sono le leggi italiane.